Ritemprato dalle vacanze il sindaco Foti dopo qualche tweet da Ciaroli torna a parlare a taccuini e microfoni dei problemi di Avellino. L'occasione è la cerimonia di scoprimento della ripristinata targa toponomastica in ricordo del medico Mario Malzoni. Innanzitutto affronta l'argomento crisi al comune. So di essere un sindaco protempore, eterne invece sono le miserie umane. Io sono sicuramente protempore, però ribadisco che le meschinità e le idiozie altrui sono permanenti. Sarebbe arrivato il momento che si pensasse veramente alla città, piuttosto che accanissi contro di me. Non serve che si accaniscano contro di me, contro l'amministrazione, serve a poco. Poi il contratto risolto consensualmente con l'ACS per il servizio del verde pubblico con la città diventata una savana. È stato un mio errore, ne faccio ammenda. Io ho molto spinto l'anno scorso di affidare questo servizio all'ACS, però non ha funzionato, ha funzionato male perché l'ACS non aveva né il personale per potersene occupare, né le attrezzature. E quindi che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto appaltare a terzi. Insomma, si è limitata a fare una sorta di intermediazione di mano d'opera. È una cosa sbagliata, ma è la colpa di cui mi assumo ogni responsabilità. Quindi è giusto che lo rifaccia nuovamente l'amministrazione direttamente, procedendo all'affidamento per gara su 4 o 5 settori, come mi dicono gli uffici del verde. A microfoni spenti infine si sfoga sulla dogana. È diventato lo sfogatoio per chiunque per parlare male della città. Non sono Nembo Kid, le cose non si possono fare in un nanosecondo. C'è stato un sequestro penale di fronte al quale ci siamo dovuti fermare. Ma la dogana è e resterà pubblica.